Oggi è venerdì e quindi ci trattiamo bene, cioè facciamo un po' di unboxing therapy La prima volta che abbiamo fatto un video su YouTube era un unboxing Ne avevamo visti tanti e non lo so, la prima idea che c'è balenata in testa è stata quella di fare un unboxing anche noi E oggi ce n'è uno importante, come si sente il rumore Adesso vi metto la GoPro in testa e vi faccio vedere che cosa abbiamo comprato, non vedo l'ora Allora, vediamo un po' Sì, fechissimo Il rig per il GorillaPod E che cacchio è un rig? Ok La prima delle due cose per fare l'upgrade dei video Per darvi più qualità, più velocità, più video, più quantità, più qualità La prima delle due cose è fatta Eccola qui, fichissima, spettacolare Sarà super comodo adesso fare i video Dovevo premere solo REC E fatto E adesso apro la seconda Non vedo l'ora Non vedo l'ora Non vedo l'ora